Assessore, Canal Bani sta continuando questa opera di messa in pulitura, ma comunque c'è una fauna che vive e permane. Ve ne state prendendo cura? Sì, assolutamente sì, questo grazie alla protezione civile in primo luogo, ma anche ai volontari dell'Ampana. Come ricorderanno i cittadini, ormai un paio di settimane fa con Enel Green Power si è proceduto a raccogliere tutta la fauna itica presente ancora nel canale e per trasportarla nel metauro. Dopodiché il canale è stato completamente svuotato, anche alla luce della siccità che ha portato atto l'autorità d'ambito a rifiutare il comune di Fano l'emissione di nuova acqua nel canale. Quindi il canale ormai è in secca, da ormai un paio di settimane subito la protezione civile è stata interessata con la collaborazione di Enel Green Power per mettere delle vasche per le papere, per i cigni, per fare in modo che fosse garantita la sopravvivenza e il benessere del resto della fauna presente lungo il canale. Viste le alte temperature abbiamo fatto un ulteriore intervento questo fine settimana, grazie ai volontari dell'Ampana che colgo l'occasione di ringraziare, perché abbiamo collocato otto abbeveratoi specifici per la fauna che hanno la caratteristica di poter contenere acqua che viene messa in protezione, quindi non solo pulita ma che non evapora, che consente per l'appunto anche con queste alte temperature agli animali di potersi abbeverare e quindi di garantirne per l'appunto non solo il benessere, ma innanzitutto la sopravvivenza. Chiaramente è una situazione eccezionale ed è il motivo per cui quotidianamente l'Ufficio Ecologia Urbana, anche con sopralluoghi spesso anche accompagnati da ASU, l'Ufficio Veterinario, realizza proprio per monitorare la situazione e controllare lo stato di salute di tutta la fauna presente all'interno del canale Albani.